Dopo tre vittorie di fila, il Benitez che arriva in conferenza stampa in vista dell'importante sfida contro l'Inter a San Siro è un Benitez molto più disteso, tranquillo, il solito Benitez insomma a cui tutti eravamo abituati e non quello scontroso e di poche parole di qualche settimana fa. Stiamo bene e abbiamo fiducia, la quarta vittoria consecutiva ci darebbe una spinta ulteriore, ma l'Inter è una squadra forte, una nostra rivale, afferma. Una partita contro una squadra che per me è una delle squadre più forti del campionato italiano, abbiamo visto all'inizio i rinforzi che hanno fatto, una squadra che Mazzarri ha fatto più con le sue idee, per me è una squadra che ancora è favorita per essere al top della classifica. Chiaramente non sono al momento migliore, ma la forza, il livello della rossa e la qualità del suo allenatore non è in discussione. Certo, nei prossimi 21 giorni il Napoli dovrà fare i conti con un tour de force notevole, sette partite che possono cambiare tutto, afferma il tecnico, non nascondendo ottimismo e fiducia nel futuro. Abbiamo altre sette partite, 21 giorni, sarà così, aspetto fino alla fine, questo è importante, significa che la squadra continua vincendo partite e gioca tutte le competizioni. Sarà difficile, sicuro, perché per il livello dell'altra squadra, perché dopo la sosta dobbiamo vedere dove siamo, abbiamo vinto tre partite di fila e questo è molto positivo, la squadra ha fiducia, la squadra ha la mentalità giusta, ma dobbiamo dimostrarlo contro una squadra che ha bisogno di farlo bene lo stesso. Non tralascia nulla il tecnico spagnolo, affronta tutte le domande, Scudetto, Europa League e anche il suo contratto in scadenza. La cosa importante con il presidente qua era vedere un po' lo che aveva fatto la squadra questi giorni, le partite che avevano fatto e lui ci ha congratulato dello che hanno fatto i giocatori e lo che abbiamo fatto tutti, questo per me era la cosa più importante. Dopo abbiamo parlato della possibilità del rinnovo, che sicuro che ti fanno la domanda, le Sky nella conferenza stampa, abbiamo detto tutte e due insieme che abbiamo quasi 15 partite fino a gennaio e dobbiamo concentrarsi nelle partite. Non abbiamo fissato una data, ma abbiamo condiviso che le partite che abbiamo, tante partite che abbiamo, sono così importanti che è meglio concentrarsi nelle partite. Grazie.